A seguito della richiesta della Confesercenti provincia di Teramo sono stati sospesi i termini di pagamento degli abbonamenti per musica d'ambiente nei comuni colpiti dal sisma fino al 30 giugno 2017. Un bel traguardo? Sì, è una nota positiva per tutte le attività che rientrano nel cratere, in particolare anche per la città capoluogo di Teramo perché questo vale anche per la città di Teramo anche se questa città purtroppo non è rientrata in toto nel cratere per quanto riguarda le questioni e i problemi che ha creato il sisma. Ci auspichiamo che questa cosa possa essere d'esempio anche per altre iniziative che stanno sul tappeto, soprattutto il blocco delle scadenze fisse e dei mutui mensili. Ruunioni questa sera all'università per fare delle proposte. Questa sera alle 7.30 ci sarà un incontro con il sindaco presso l'università di Teramo a seguito di una ruunione convocata dal sindaco con tutte le associazioni di categorie. Eppure queste richieste dalla Confesercenti al suo tempo assieme alla Confcommercio. E questa sera dovremmo fare il punto della situazione e tutte le richieste da fare alle forze di governo per il prossimo futuro. E in primis come richiesta, come accennavo prima, ci sarà che vengano bloccati i mutui soprattutto per le attività di Teramo città e anche di parificare gli interventi alle attività economiche del territorio comunale di Teramo al pari di tutte le altre attività che esistono nei comuni che sono rientrati nel cratere. Mi auro che l'amministrazione comunale recepisca questo discorso anche perché proporremo all'amministrazione comunale di essere anche abbastanza elastico per questo periodo, anche per le tassazioni locali. Grazie. Grazie.